Al 1600 cosa? Nome? Carla Tau Dov'è il presidente? Nina Chance Io sono un agente del servizio segreto degli stati militari Gli indizi parlano tutti di delitto passionale È stata uccisa nella mia casa Per il ciclo serial thriller C'erano anche loro Loro chi? Murder Lo conosco At 1600 Sabato alle 21 Con Iris